Oh 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 Qui c'è il microfono La trasmissione dovrebbe essere partita Dice che sta iniziando E arriva una notifica Siamo salvi E arriva una notifica Hola, hola, hola Angioletto Che tale stas? Tutto bene? Tutto bene? Olè Hola, Johanna Hola, Johanna Hola, Svedi Fanta, bella Hola, hola a tutti Un secondo che Andiamo a partire bene Del live stream Voila Voilà Voila E vamonos Do, 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 do Non detengo la chat Ok La veo Nesta chat Che tal? Come stai? Svedi? Tu che tal? Anche Ciao doc Solamente un secondo da accenare Tranquillo Angelito Ale Angelito Ale Ale Vamos Compensarla Nel nostro partito Con Kate Già ho visto che c'è Hola Victorin Io bene dai Sto aspettando che arrivi già Mostra Come sempre Mi si blocca Youtube con Comprendo Vosotros va? Va bene? Come se blocchia la chat Chicos Quindi Victorin che haces? Vas a jugar tu tambien? A vero Il partito di oggi Lo veo muy 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 Feo E tambien vego che Non se por que Ma Mi internet De casa Mi Firefox Va mal Mal Masi tan mal No Valenziano Con una falta La prossima vez Ioana Lo hace mejor Asi Non tendrà a falta Sin prisa Perché Ah è vero Io parlo a Ioana Ioana Non c'è neanche Ficato Gli auricolari E quindi Jessica ancora la vola Due palle Oggi Non finisce più Stagiornata Mi sa che devo togliere Firefox E devo mettere Mozilla Cioè devo mettere Chrome Perché mi va troppo male Eeeh Jess quando liega Eeeh Non lo se Eeeh 30 minuti S'quarenta Maximo Hola Pingui Sigo posando Pure un selfie E' il selfie carignoso Si blocca Si blocca Si blocca Ho io Tengo problema Con il browser va 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 de merda vale chicos momentaneamente non leo il messaggio perdonai però tengo un problema creo con firefox ragazzi ho un problema credo con firefox logicamente se cose succedono sempre quando sono da solo così non posso lasciare niente a nessuno non leggo la chat se qualcuno se qualcuno mi sente a sto punto non lo so perché non leggo un cazzo si è bloccato a caricare su sigo posando para il selfie e vedo solo quel messaggio vale no o sve se ci sei ancora mi fai un favore o sve o alguno cico spagnolo es porfa e potete iscriver su discord se me scucia is solo che comunque come puoi sapere se me scucia is se non me scucia c'è vale credo che lo vado a rifare sta merda di live jam che inizia così buttano lo scavo oh cico se anche mi scucia porfavor su discord mi invia solo un si se mi scucia o se il video va perché in serio non stai resipendo nada inton se non se se lo stream va o no perché non vedo nada ragazzi se c'è qualche italiano kate se ci sei ancora sve se ci sei ancora qualcuno mi dia un segno se questa live sta andando oppure no per favore perché ho il computer bloccato non mi sa che lo vado a spegnere perché tanto se nessuno risponde bo 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 ok grazie a Vittorina a me non mi va lo che è Firefox chicos quindi ora intenteremo o a soluzionarlo o non lo so o vado avanti così spera... chicos... ora va... ora... oh... oh... vale chicos, parece... no... parece tutto negro... ora si... oddio... che sta succedendo qui? ora... ora leo chicos... almeno creo che stai leyendo la chat di ora... hai un monton de mensaje... entonces si... la live va bene doc... che mi scrive... no... pingüino... pingüino... hai preguntato ai miei amici se porfavor mi podían decir su Discord se la chat iba o meno... perché... non mi va... eh... qui nada... entonces non sapia se vosotros estabais hablando... mirandome... si aún estaba online... ok... por este... preguntato del Discord... e se tiene Discord... agrega... il server se quieres... está nella descrizione del video... tiene il server... ostra... eh... che duro tener padre... adiós... ah... vale... 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 hola Jack... hello... che provece... pingüina... Caleb... si... si... mangiano diretto eh... tutti pronti... esplota... Toast... hello... how are you Jack? Ciao... Ciao... Oh boo... La transmisión è nel canal... mmm... Caleb... Mako... Oh Mako... scusa... non ho letto... c'ho la chat che va in ritardo... Caleb... Si... creo che si... creo che... sei como a Serla... eh... basta che... eh... incontro il... il link... y trabajere todo con... o sebe... o besé... o besé... o besé... no... ah... hola a todo chicos... hello to everyone... benvenidos... en lo stream... de nosotros... ti recomiendo fare una prova prima vale capo fare lo che tu mi digas se hai qualcosa che decirme attendo ordine domani calamaco questa jazz no a un no a un no sta qui li gra hola Ioni bienvenido bienvenido vámonos va uno già si ha disconnettato vai vale non passa nada no come ha passato aspetta eh alla 23 perfetto Bennett I normally subscribe on YouTube gaming but I submit to you on YouTube normally oh but it's the same no Bennett it's the same YouTube the notification go normally no 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 he visto el 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 area nueva no lo he visto un que han puesto esta vez de nuevo enseñan algo para Splatoon Splatoon 3 van a enseñar si no yo yo quiero Smash y mira quiero también un poquito de Animal Crossing eh no te dico que no y el Animal Crossing no se daño si a esta hora te puedes quedara encerrado durante el tiempo en el área mutante wow 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 no lo sabia no no lo he visto mira visen new friend hello I will add you in a minute amico amico nuevo la chat y todo lo demás y todo lo demás un poquito no no estoy centrado en el juego al tope que tal que tal amico 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 sei fortissimo amico con molta 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 sempre la misma pregunta ma Marco è forte si 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 è forte è forte Marco si si sono tornato un po' deficiente ragazzi a ver accetta la solicitud no 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 mi ha hecho hacer un problema tío ho hecho un problema ahora mismo ora se han ido se han caído va a ver a ver lo que pasa ya ok no 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 Fox ma la solicitud è la tuya wow Johanna ciao lo que eh immaginate quando stanno todo afuera sperando cioè che nadie se hace cerrar da la capsula por ejemplo todo afuera e sperando no 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 non c'è codice non c'è codice no non c'è no ma guarda che merda ok mi sa che Foxy non era il Foxy che conosco io Foxy oh yeah contestami porfa no no io amo eh Caleb 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 uh uh Calebino escusami ma eh che c'è lì la rebelde alguien tiene notizia è il ritmo tropical vale 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 hace mucho que no lo veo vale 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 lì te speramos subscribe 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 oh Marco Marco L'hai rivista la scena di ieri Oggi l'ho vista tipo cento volte Lo sai Si può fare un meme Subscribe, subscribe, subscribe Subscribe, subscribe E sta viva Porfin Come la riguardo Ti mando il minuto dopo Tranquillo 32 minuti e 12 secondi Della live di ieri Bellissimo Lockhead Se poi vuoi giocare giochiamo 4 contro 4 Splatoon 4 contro 4 Normalmente Se no 4 contro 3 Handicap match E si fa da soli Oh Fanta 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 Come stai? No! Minchia Hola Hola, hola, hola Hajime Jack Jack attack Jack attack No Kate, bravo, bravo Putta post Putta post Oh You are back Oh, perfect Welcome Wee, wee No, neanche uno Can I get more? Yeah, sure, sure Caleb 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 Lasciali il posto Lasciali il posto a Dream Per favore Caleb Ok Mi sento Mi sento uno shame Eh, eh, eh Caleb Habla con il chico Dale Tu posto nel moderatore Por favore Ma non è stato italiano In inglese Caleb Marco Oh Eh, Caleb Sento you By email The mode Wait Bastardo Bastardo Marco Deniz Tiene tutto Claro Il sistema planetario Tambien Tiene È suo Ella Puede essere L'ora legal E l'altra ora Tambien La solare E la legal La sella No No Non è Deniz Che decide Quando si Tiene Che cambiare L'ora Tambien Mostra No Oh yeah Quien è Seldino Con rispetto a me Guys New mode New mode Please Subscribe to our channel Come on You wanna be mode But you are not Subscribed Cada manana In Africa Deniz Se despierta E hace sì Che un león Puede comer Algo No, no, no Nel tiente Rico replica Io ancora Io guardo Locked Perché è la terza Volta Che me la becco Fermo Ah, la quarta Ti mangio Il cervelletto Basta Non è possibile Aspetta Ehi Vale 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 Marco Minchia Andiamo a coma Macorovazzi Questa partita è stata molto divertente Molto divertente Molto divertente Divertentissima Basta abbiamo perso Abbiamo perso E' in serio E' in serio Ah I forgot yesterday It was in your stream Account Vale 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 Jumbo Kid I remember sorry man Now I remember Now I have read all your name Oh Locked l'hai visto il video? Eh? Hai visto? Col trattore in tangenziale Ninja Kid Sì 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 I remember Ninja Marco Marco Tutta che torre Sì 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 Marco Adesso leggo Leggo Scusa Ho letto adesso il messaggio di Discord Sì sì La leggo Come puoi notare Cucusette Vai Facciamo una partita un po' seria Dai per favore No eccolo Subito arriva Kid B Tre partita Sì 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 Tendiamo che rimediare Boh, in due Kate, oltre a te Kime, tranquillo Adesso Adesso rifacciamo la chat Tan 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 Questo dorme Perché, non lo so Forse ti sei appena iscritto A Discord E io ho la sicurezza Che le persone che si sono iscritte a Discord Da poco non possono entrare ancora Devi aspettare un dieci minuti Credo No, no Era il terzo lì Ioni Dale, dale Voglio Mako Oh no E Mako che vuole me Di qui è meglio Di qui è meglio Boh, ma non ci sono arrivato Vai fammi Sei proprio uno scemo Lo giuro Mako è un tonto Che non lo saprei Quanto Tyler Welcome How are you Oh Aiuto Aiuto Guardalo Guardalo Ciao bello Ciao Si si ci vediamo più tardi Ciao Ciao How are you Tyler? Thank you for love your channel Not going to lie Thank you Thank you so much Jumbo Quindi, cerchiamo di prendere il nostro tempo felice, quindi... Grazie! Vai, rifacciamo la stanza, dai, chicos! Inoltre, 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 inoltre Entonces... 1, 2, 3, 6, 9, 9, 6, 3 bravissimo Caleb bravissimo ah no a un tengo la rueda come si fa a diventare igodi bella domanda bella domanda quindi Caleb teniamo che a spiegarle al cico come si può essere igodi che vuoi essere un igodi ufficiale o un igodi che ha il nome così solo per essere igodi dimmi contami dimmi la verità mira la cara di Jaime arriva la gaina va a ganare sicuro che no proprio sicuro che no oh Dio che cosa vuol dire quel segno ragazzi mi ha spaventato che significa ganare vincere ganare in spagnolo vuol dire vincere io gané io ho vinto win Jaime mira che poi da sera un mi trabaco eh questa questa qual è win questa mi gusta un pochino meno ah allora io ho ragione vabbè parte un handicap match perché siamo solamente sette giocatori uno due tre boom hola 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 benvenito benvenito ti 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 questa non me la acuerdo ah vale speramos vamos mago sperando mago mi stai sparafasciando la vista va bene ok vai 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 così 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 vai vai no 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 pensavo che va bene salutiamo il messerolo voilà questo è un te lì ma che idea di merda ha avuto veramente potevo pensare tutto però non quello no 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 vostra tun 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 bella è giumbo col mio cagnolino muore veloce 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 via veloce mostra no grande giumbo non me lo creo eh vale giumbo che bello che sei sei bellissimo così veramente lo voglio anch'io lo voglio anch'io lo voglio anch'io lo voglio anch'io no 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 che siamo andati a perdere che siamo andati a perdere ragazzi non me lo credo va bene va bene ok hanno vinto they win so if they win they win congratulations i fascino bellissima bellissima bellissimo bellissimo 1 2 3 2 fuori e non stare 1 2 3 1 2 3 io lo faccio sempre visto io ti faccio comparire cose ogni tanto che non hanno un senso capito e questo è un messaggio per i miei amici hater ok spero che sia stato chiaro lì ti puoi fare quando vuoi il calamaro è gratis il calamaro è gratis ragazzi leccate lo schermo c'è il calamaro però la cosa più bella secondo me è quando tu sei lì e ti trovi incatenato in quello che non sai che cos'è però sai che c'è no? hai capito? quella è la verità no no io io ce li ho credimi 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 ci vengono a spiare però mi fanno ridere tutti perché alla fine tutti pensano veramente che youtube sia un lavoro perciò ci devono essere anche le spie industriali di youtube no? giusto che sia così ai tempi miei ai tempi miei adesso vi faccio la la romanzina del vecchio ai tempi miei il lavoro era il muratore era il falegname il panettiere adesso cosa fai lo youtuber? e cosa mi sviluppi? video? bravo io invece splatto Kate in privato alla faccia tua youtuber di merda sono pronto sono pronto sono pronto andata voilà oh che ollo snipe ostra 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 ok Tyler Tyler non ti un secondo oh no no you streaming at any mode today anymore no i stream only for my friend if you see me if you watch me because you are my friend tell good tell thank you to Caleb hola Victorin no faltava tu presenza un Victorin de sostanzia de substanzia oh no Marco ma sempre tu sempre tu ti odio poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo e poi ti manco non lasciarmi mai più sei grande 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 oh 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 Marco sempre lui eh quanto falta per iniziare la sala mira è il primo partito che che siamo con con in questa sala me parece sì 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 me parece a un uno lo voy a hacer Victor Victor no 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 Fanta ti avevo visto Fanta ti avevo visto te lo giuro voilà voilà poi tiro il mando è nel è nella televisione è nel televisore sicuro poi è il dia santo che vuoi attirare il mando a una velocità pari a c c c c c c c c mila chilometro orario ma ni l'ho l'ho golpeato vada è il Marco solitario grazie mira come girava come dava la volta nell'interiore dell'interiore della vongola l'Almeja in italiano se liama vongola e Marco un'altra volta che ammazza ma c'è lo scudo Marco il tuo è uno scudo Marco dimmi la verità sei un haters Marco si Marco è un haters ha fatto un cuoricino guardalo sei troppo un mito ci cosmi hai il corazon di Marco è in verde hai c'è il vale ora poniamo il bel bazookarp uno due tre uno due tre svegli comunque Victorin ora la rinnesseremo no 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 Kaleb decide I'm not Kaleb he is the big moderator e only Kaleb decide if one person can be mod if you play versus Kaleb and win Kaleb give you the modulator rules damer the your massimo no Siamo british, ma quanto cazzo sono british? No Ascolta, lui da Calamaro, allora Calamaro, Sguardrinella Calam Come può essere un misto tra Calamaro e Sguardrina Hola Si è Oh Calamaro, meno male che sei arrivata Perché Non reggevo chat Scrivere Parlare, giocare Sto giocando di merda Ciao a tutti Hola a todos Ostra Chicos Alliegato Jess Questo è già su Ma come è arrivato su? Io non l'ho visto passare Madonna mia Che nervoso Che nervoso Sediti Siediti Eh? Sì no, sediti Sì Sì Chicos, un secondo Ora Jess Viene Un minuto Ora viene Macchina La Sguardrina Bravo Così ti voglio Il nuovo codice Sarà questo Molto semplice Intuitivo Reazionare Reazioniamo 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 Gexter Ciuffo Ciuffo rosso E naso all'insù Gexter Ciuffo rosso E naso all'insù Gexter Nel laboratorio Gexter Gexter Ciuffo rosso Dai ragazzi Manca uno Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Pronti Uno Due Tre Boom Uno Due Tre Boom E quindi 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 Ge Hai visto la foto? Mi hai visto la foto Anch'io Subito Bene Fanta Devi perdere sto vizio del cazzo Di sbattere su quel tasto però Perché dopo un po' dai nervi Grazie Grazie Che poi ti seguono tutti Mi sembra di essere Allo stadio Sì va bene Mica veramente Ho scelto di nuovo Vongol Sì perché Non è proprio credibile Quello che Leggo nei miei occhi Capito? E se fosse No no Vai 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 Veloci veloci Boah Mako non cadere Alle provocazioni Di sve Ti stai provocando Non cadere alle sue provocazioni Che poi giochi male Mako No ragazzi Mi dispiace ma Come tutti Saven A chi Vale È l'unico Moderatore So io Puedo poner Mañana Moderatore A todo il mondo E quitarlo Il dia siguiente O la ora Siguiente Ma perché Ma perché No ma tanto Io Aún non Tengo un moderatore Che hace Il moderatore Quindi Non ne tengo la necessità Tengo la necessità Di un Caleb Si Perché Sta sempre por aquí E Se passa algo In chat Más o meno El In spagnol Sempre può aiutarve Entende E bo E Mako Perché Mako E Mako E Preferito De jazz Quindi Mako Tiene che essere Moderatore E per questo Io tengo Mi moderatore Personal Che è Tibone Solo che Sempre lo quito Lo pongo Lo quito Come El fa conmigo Io Hago con El Però È l'unico Moderatore Qui È Youtube Il dia Che decide Cerrar Tutto Nos Modera Ah Que no Hai Alla Il mondo Oh Non me lo creo È arrivato Scrotto Hello Hello Vedo Svelli Hi Megalè Japanese Friend Eh Japanese Friend E il Japanese Friend Li facciamo come regalo Mettiamo un po' Questa qui Della switch Questa qua Questa è Questa è Jumbo Jumbo Mako C'è anche Mako Ancora Doc Ma che hai comprato Le mongole Per fare la pasta Che ne sono avanti Per giocare Sì È successo che Mongole È già la terza volta Che passa Finchia E questo è perché Gli piace tanto a Mako Madre mia Madre mia Come Non 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 Adesso Vedi i Commenti Perché Tutti Mi salutavano Cate c'è anche qua Sì 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 Sta giocando Cate E c'è anche Vittorin C'è Tyler Mamma mia Quanta gente Bennett Game Vediamo Sark Madre mia Per Cicos Ioni T'es Todos Todos Ok E quindi Casualmente Questi mesi Ci sono Questi Chiallato No È strano È strano No ma guarda Io già ti dico Acqua 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 per tutti Chicos Acqua Equipo Equipo Di Bacca Di 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 Hey Guys Vi Lost For Ten Point Sì Oli 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 Io Quiero Diretto Con Este Fondo Voi 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 Soga Bella 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 Rock and roll Puro rock and roll Ah Lo sei uscito Wow Che Che bello Che Weird Roll Oddio Ah no Oddio le vongole Oddio vongol gol No Io Non odio vongol gol Io Non odio vongol gol 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 Facciamo Una Mischia Mollusca Che tanto Non la Facciamo uno due tre un chiamato povrino ma si deve andare no c'è ancora un ora di gioco un omaggio per maco un diamante per tutta la vita ma maco mi sto dicendo come fai ma con il tuo segreto scusami che cosa che sopra la lista vai mette una una che non sei io come la mette deve venire dal cuore ragazzi ragazzi schiacciate schiacciate ragazzi ragazzi schiacciate ma è la sorte la sfortuna in questo caso i miei occhi can i get more by fighting try it no no maco try it c'è nessun ragno oh mio dio la switch e il telefono entrambi al 66% coincidenze? coincidenze? io credo di sì mica maco attenzione non sarà che lei è caricato allo stesso tempo più o meno 6666 è il numero del maco c'è lì un mostruito dove tu vai parlare tutti che mi trovi chi è cala? cala maco? chi è cala? è tanto maco e cala è il numero del doc mentre non dici calamaro tutto va bene no calamaro no è solo io solo io lo posso chiamare calamaro eh che nessuno mi chiami quel ragazzo calamaro che mi incazzo siete 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 il numero dei doc eh sì il 7 è il mio numero tanto il 7 quanto il 9 ah ragno non è il rango oh mio dio non aveva letto aveva letto il rango ma che questi problemi hanno? ai 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 svegli sembra che ha una malattia che si sveglia la mattina e si dimentica le cose che gli si sono state dette la sera prima fatemi una un salmon run certo svegli ora la faccio eh c'è abbiamo un video di salmon run e lo mettiamo e diciamo che lo stiamo facendo adesso eh? non ce l'abbiamo? ai mio dio un replay un replay tanto è sempre differente ok oh ma ostra oh ah è vero perché? dico svegli meno male adesso si è ricordato io meno male che svegli c'è e fra poi avrà anche la switch appena c'è la switch 6 svelisa mi contatterà su ci sarà una nuova rete che si chiamerà meglio di internet si funzionerà solo con il pensiero eccolo meno male che sirvio c'è doc no no chiedo la foto bufu bufu voglio la foto pe 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 si ombre ma è un bufu io che non ti ho imposto in igodi io posso intender che ora chiedo un combate maco contro caleb così va a sapere chi è il miglior degli igodi dopo di me così te lo dico che maco non è mai stato il nome o il tag si si ninguna vez traezione ro nano 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 no no eh una quanta veces si claro si no ma escusa escusa ha creato tre account del primer del primer level entiende e jugando con l'account del primer level tiene la persona ma Certo, a me è così mentirosa ora, Caleb, che hai fatto questo, dove dico io? Sì, ho mai l'Igo di Caleb. Oh, l'Igo di Caleb è bella. Hola, Caleb, che tal? Tutto bene? La tipa di... Uno, dos, tre. La tipa di meno male... Spera, eh. Black, black, black. Caleb. Chi è la tipa di meno male che sirvi o c'è? E non male che sirvi o c'è. Allora. Black, tu mismo lo dici. Black. Con Caleb mi passa che a volte voi, per esempio, nel metro e penso, e se è Caleb? È broma, se io non so, è qui, ma a volte mi passa. Bella, Caleb. Bella, Caleb. Bella. Bella. Bella, Caleb è quello che vuol dire. Bella. Bellaare. Bellaare. È il verso che fa la pecora, in italiano. Bella. Bella. Bella, Caleb. Bella, Caleb. Io ero male contro Kaylee. L'altro giorno l'abbia scoperto Dynamo. Kaylee sta per qui? Kaylee si è dissolvito nell'aria. Credo che Kaylee in realtà era una forma gassosa di un elemento non scoperto nella naturalezza. Noble, però è un elemento. Si. È noble, è noble. Noblessio. E... Bella Caleb. Mi piace. Bella Caleb. Bella Caleb. Vi ricordo che c'è distrutta. Bufu, Caleb. Bravo. Bufu. Pau Malena grazie o grazie benvenuto grazie vuoi continuare un secondo? sono vestito da stronzetta della scuola tu sei la tipica stronzetta della quinta no, nel tuo caso la stronzetta della terza per la papina che vinca il migliore o il peggiore grazie a ti spera che mi subscrivo io come sempre guarda benvenuto benvenuto Pau Malena è un nome? si ah mira mi risponde in catalan grazie perché hai visto Pau e ho detto spera Pau è solo un nome catalano non esiste in castellano vaale per questo? che guai forse si spelao la unica cosa che so dire io in catalano io so dire se spelao so dire solo di discount solo di discount no capravo non è catalano no vale grazie a me mi piace non è catalana io parlo catalano io parlo catalano però no no per il bene di tutti sappiamo il spagnolo che così lo si entiende no no siamo catalani visca catalani visca catalunia no catalani io dico io dico e stano tengo il cerebro che mi sta solo pensando in italiano perché non tengo il google translate che hazi tu? eh? come è ciò? l'hai evitato semplicemente? si lasciamolo lasciamolo a lato vale è passato tutto così veloce comunque non lo so poverina lo primero partito del jazz sono sempre un ruido molto strano con la con la la salita no? iii pare se è un mono un ruolo no ioni 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 oh poi sois pros in i idiomas isplatundos ora sto giugando io eh? io sono non mi definiria come pro io mi definiria come normal si un secondo Pau ora vamos a chetarla un secondo che io sta facendo una cosita ora Jess eccetera tu sei la l'invito lo che va a nassi ragazzi ragazzi ricordatevi di bebe agua 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 Ah, qui si chiama Pablo, che lastima, io ti ho associato con Pau Es che mi piace il nome Pau, per questo Aspera Chico, sapete che Pau in catalan significa paz? E in spagnolo è Pablo? Ah, che non ti senti? Venga, va Io volevo aspettare Mi schiavoluzca o cosa? Eh Fai Già Già Sonscribe, subscribe, subscribe Subscribe, subscribe, subscribe Vai, infarti già è veloz Ma te ho chiesto Si volevi mischiavano Uno, dos, boom Zero, split Se va Mi è bello, signora 30, anto 2 gameplay di disc gem, per favore. Ah, ieri non te l'abbiamo fatto alla fine. C'è un replay sempre. Uno? Esistono i replays dove tutto è attivo? Ah, come vuoi, Pau! Se volete, mi cambiò il nome. Vamonos! Chicos! Ah che sì, Victorin, la misma logica pensato io. Il che? Lo che acabo di dire del nome della paz, no? Dice, non c'è senso. Se in Catalen è paz, quindi in Paule dovrebbe essere paz in spagnolo. Però, bene. Ora, io voglio solo mettere un po' meglio questo. In questo momento, proprio, tu dirai, ma in questo momento tiene che essere questo lavoro. E io ti dico, sì, in questo momento voglio essere. Ah, e sta Jaime. Jaime, hola, come? E adesso sì che arriva a tutti gli occhi. Eccolo! Adesso sì. Ciao! Io mi autopresento. Una volta siamo un peccato in live qua. Sono Jay. A te mi hanno detto di chiamarti Scrotto, ma preferisco chiamarti Ice. Ma si è presentato così? Fanta Gucci Gang. Sono io, sì. Dai! Jumbo! 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 Uh! Ma è Jess che parla Family. Non capisco. Jaime lo mismo. Jumbo! 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 Cosa significa Family a te capì? Cosa significa family a te capì? Oh, Ma Dio! Sai, non sono italiana? And la mia! Ice oh mio dio evita di scrivere cazzate per favore perché di solito non do neanche la seconda opportunità alle persone solo che quel giorno ero bravo perché avevo appena sorpassato i 300 allora ho detto ma sì conteniamoci vale sempre lo stesso discorso bend 10 racks on a new chain questo è della canzion forse lui non sa che qui ci sono bambini di 8 anni a lui era persona adulta non lo so però c'è da capire che qui purtroppo ci sono bambini sì è vero Ice io poi sfibro sta pengendo scusa dice no tranquillo anche a me piace non è che piace solo a te in tutte le salse però purtroppo qui all'inizio sai cosa qua mi criticano anche perché mi accendo la sigaretta mi criticano capito perciò siccome a me non me ne frega un cazzo però boh io sento una responsabilità quasi che non mi appartiene però perché non è che non decidiamo chi ci vede però io durante il giorno bestemmi l'80% del tempo non sono sì e all'inizio qua quando bestemmiamo ci inventavamo le parole tipo bestemmiavo e cancellavo le live perché tiravo delle bestemmie talmente grosse che dicevo oh cazzo c'è il microfono acceso no no ti stiamo spiegando ti stiamo certo certo no ma ti stiamo spiegando perché oh Andrew scusa eh sono anch'io che ho iniziato così ma c'è Andrew Andrew Arexe no se non sbaglio boom mica no vongo il gol va a fa no no niente allora credo che Victor anch'io va a spiegare fuori adesso perché Jumbo Kip continua prontando se puoi fare Kala no right now Jumbo we are in stream right now we cannot talk about mode and strength stink 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 or stink the pork who stink io ho 14 anni dice Kate sei una delle più grandi penso Kate ti dico solo tra le più grandi il fumo fa male smetti subito disse il pacco di sigaretta oddio Laura dopo mi cambia il nome verbale paolo tranqui mi pare paolo paolo grazie ice ma tranquillo si scusa ti volevo dire lo stesso allora mi ha chiesto le scuse che non ce la faceva veramente mi ha chiesto le scuse e ha detto che splattiamo il nome suo quindi questo splatt andrà per Laura questo splatt è per Laura aspettiamo che corsa Caleb è insieme della torre così viene splattato uncurling ma magistralmente evita tutto gli va pa' delante e splatta al giumbo gli dà gli dà la derecia e muore 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 già sta già è terminato il tempo di Caleb vado a avere un secondo affinto l'ofanta dove è giumbo vai giumbo poverino bella giumbo we are on you yes we're watching you ui esse capriole sulle capriole è veloce contro il laser non si fa niente 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 e il fantabà senza catene un paio quelle sono scritte in descrizione però quelle che ho imparato con il tempo si può dire tra quella anche l'italiano che non è la mia lingua originale che è il tedesco è il tedesco bella e va va è bella 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 ma sai che quasi voglio giocare ma adesso non so magari dopo ma starde sono solo le 10 ah le 10 20 e il gatto che grida perchè sono famosi sti dynamo non lo sai perchè hanno fatto molte canzoni fra cui non la conosci? dolce patatosa raptatosa raptatosa hola gustavo hola che è questo gustavo io non mi ricordo ben no io mi ricordo se non mi equivoco e l'altro gustavo si non mi equivoco parlava spagnolo inglese il primo inglese e l'altro spagnolo non lo sai cosa serve dynamo sono fan di dynamo dynamo crazy 240 euro boh abbiamo spento tutto quello è da 180 140 questo ce l'ho freddo si eh? chiaro no no freddo non mi so se si apre spagnolo inglese ma duca eh duca non lo so è la unica cosa che mi ricordo è quando ho preso è vero dov'è duca? non lo so e magari un giorno oggi è il suo giorno hello 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 Doraemon ecco Doraemon gatto spaziale non ha paura mai di farsi male do 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 Dora Doraemon woohoo non lo so non lo so l'italiano giapponese venuto nella nostra grazie che c'è AIS? un jump scare? che c'è un jump scare? non lo so spiegati Fanta siamo ignoranti spiegami spiegatino 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 cosa vuoi? io ti dirò chi sei e perchè no the family dimmi AIS dimmi AIS no vongol no 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 quando vende vongol nintendo madness wow 22 22 non è non è cambiato il nome è un amore di Caleb ah bufu la clave era bua 2 5 8 0 correcto 2 5 8 0 lo stesso come sempre madness no handicap match lo jump scare lo jump scare consistirebbe in uno spavento improvviso ahhh ecco grazie per la spiegazione ecco ecco lui dice direttamente quei gatti i gatti con i gatti con i gatti come i gatti sei online è certo che siamo online mmm chi lo dice che sono online AIS no non sono online sono una proiezione del futuro di domani hai capito tu mi vedi ma in realtà io sono già morto c'è solo la linea mi hanno connesso alla linea e basta questo questo è perché non sto giocando io sicuro perché sei una bufu guarda guarda questo bufu mi chiami Luca Pro dice AIS sì dopo te lo chiamo AIS tranquillo madre mia sono molto simpatici qua eh le ragazze in questa chat cosa è successo? diciamo che sono reactive non aggressive reactive reactive no perché ieri anche c'è stata qualche ragazza che ha risposto tipo un tasco che si è riuscita tipo eh wow Jess e Alessandro come avete tutti stato? siamo stati bene beh siamo stati un po' sick pochi giorni ma siamo perfettamente ora ancora we are perfectly now we are perfectly now we are perfectly now bastardo macoso chiaro? chiaro che sì ciao è 72 giorni quando facciamo a tutti i giorni Marco prenderà le tourticole tourticole così eh ogni giorno facciamo un directo uno ove 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 cinque non lo sai se il giorno è libero e non abbiamo che lavorare facciamo più di una BLEACH BLEACH non è Scandeggi, no? NINTENDO, NINTENDO We restart the match now The room now Don't worry, be happy Don't worry, be happy Don't worry No, NINTENDO, the room is not full You can come without problem La quanta si es cusa o no per Splatoon Pass, ah, è piena NINTENDO, the room was full, NINTENDO You're right No, no, no We do another, no, no I am a YouTuber A YouTuber Entonces, tengo que cumplir Entiendes? Sono YouTuber Chi è lo YouTuber? Vai Con il codice Il codice sarà un pochito ambiguo A ver, chi non tiene miedo De poner Come codico Este codico A ver A ver, chi Che lo pone Famili Io Non mi chiamo Francesco Aspetta che volevo Ripristinare una cosa Gioca tu questa partita Tu volevo ripristinare una cosa bella Venga, ci cosa, si, si Come piena Ah, si, si Fanta, tranquilla Ne facciamo due E rientriamo Io voglio ripristinare una cosa Ma nessuno ti chiama così Tranquillo Yeah Are you happy now, Madness? Only for you A buffo Little buffo Only for our little buffo Only for you Little buffo Che devo fare? Pronti? Vai Sono un po' Ma perché no Ci mettiamo a noi E facciamo giocare Hello, hello, hello Sì, sì Io e Gus Gustavo The first and the last Il primero e l'ultimo Aspetta Sì, sì Lo sappiamo Jack Attack Ah, hello Attack Jack Attack So He's happy Ok Ma non ti chiamo così Il jumpsuita di Freddy me lo esperava Come che te lo esperavas? Impossibile Però era Freddy, non è Freddy Oh sì sì, basta Basta Luca, abbiamo capito Basta, giuro Ho letto Anche se sembro ricoglionito Funziono ancora Vai Pablo Pablo, ti miramos Dai cagna, venga Corri rapido Ti sto mirando, stai in stream Sabemos che tenes lina Allora Come che stream is offline? No, no, no Ah vale Vuoi? Vuoi? Splat zone Grazie, fatta Quello è l'altro? Ah di che? Aspetta Aspetta Qua arriva il colpo di scena Guarda Cosa fai così? Pongo anche questo È bella Sì Allora, che colore mettiamo per il turf one? Eh ma l'avevamo fatto prima Verde No? Eh no, ma l'avevamo tolto Tower control Che colore? Metto Venga Venga Pablo Tattera Dali Qual è la tua Ah questa parola moderna Di queste cose che si sono inventate la gente Che era lo del waifu? Non lo so Non era tipo una figura Del stesso posto Il wifi Che era lo del waifu? Fanta Questa è una cosa molto Da giovani Devi spiegarmi So che è tipo Una Immagine virtuale Che per la gente Nella testa diventa reale No Stai chendo una stronzata Ah dice Victorin che Vale vale Che ponendo questo Che pones un numero che è ugual Vale La clave Che si chiama In Nada Non una millesima In meno No so Il mas veloz Oresta Hai veces hai competizione Ole Pablo Has petato Caleb Hai idea che hai competizione Donde Ah così semplice Fatta Ok La tipa che preferisci In un gioco anime Tipo Alga O Nori O eccetera Nessuna Neanche io C'è una waifu Ci sono anche i waifu Ma waifu non viene da wife Da donna Da sposa Non lo so Sono nuovi Per queste cose Io mi sento molto nonna Oddio Guarda che merda Che brutto Dai Tu hai una waifu Se devo scelgere tra Alga e Nori Scelgo Nori Anche lui Mi sa Magari me lo sto ripensando No No Chi è? Calep Ti gusta sta arma? E stas bling bling Noi Abbiamo vinto Lo so Mako Sappiamo che tu sei Fiero Fiero Seguitore Di Dialga Continuo Aspetta Sì Che stavano Che stavano 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 Non 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 stavano E chi è ora? Ehm Boh Uno che vuoi Dai Pablo L'hai guardato Hai guardato Pablo Ti tocca aspettare Uno Ti has desconectato Gu Sì Di ripetere Non stavano Però sì Hai fatto Un luogo Per altro Allora Ehm Turf Wow Spiega cosa sto facendo Per favore Ehm Il chico Sta facendo Una No Sto ripristinando La ruota Almeno Sceglie la ruota Sì Sì Sto facendo Una ruleta Una rueda Ma lo sanno Chi è Ah Non è che devo dire Cosa stai facendo No Va bene Ma sanno cos'è Sto ripristinando La ruota Poi lo devi dire Sto facendo la rueda Es che non stai Ripristinando Cosa è Ripristinando Non so Non so Che è No Configurare Spazone Linemaker Odia Spazorato Come possibile Simula un montón Ehm Cos'altro c'è Allora Tower Control E poi Ne va aggiungere Ancora una Che è La ruota Chi c'è Chi c'è Fanta Perché non ti muovi Fanta Fanta Avanti Sei entrato Adesso Adesso Stai qua In base Chi c'è Chi c'è Chi c'è Chi c'è Chi c'è Chi c'è Fanta Random Vado Vado Stark Stark Te miro Un par De segundos Cuidado Ese rubro Oh Y quien te ha matado Jaime Vamos a ver Jaime Siempre has querido Ser espectador Pau Eres la primera Persona Que nos lo dice Oh Y le ha vuelto A espantar Sark Pues volvemos A Sark Si que es divertido Victorin Bueno Ay Me he perdido A quien le ha explotado Pues me quedo Gonzaga Hasta el siguiente A mi me mola Mucho Ser espectadora Porque me puedo colar Tipo En los personajes Puedes ver Cómo se mueven Los trucos No sé Un montón de cosas No siempre Obviamente Pero De vez en cuando Mola Y también Mola mucho Verlo Desde arriba Claro Ya lo mismo Ya no puedo Una vez Me he hecho el zoom Ya no Si Seguramente El móvil Si Bueno No sé Donde me he quedado Me he quedado En kuma En mad En mad Cuando soy espectador No paro de dar vueltas Estoy un poco mareado Antes también Si no vas A un personaje A mirarlo Puedes mirarla Desde arriba Lo que pasa Que creo que Yo ya no sé Cómo se vuelve atrás Yo ya estoy mirando A los personajes Y no No sé Cómo se vuelve There's en mad He's doing a show For us He's saying He got spladdled By kuma No By anyone else I don't know I don't know I don't know Let's see the show En mad Come on We have paid The ticket Yeah We want to see Our show Beware of the bomb And of that Squid over there That looks like Kaleb Who is it? Fear the bomb Wow That was a cool movement Though It is Kaleb Kaleb I recognize you You're in the other end And you can see You're you Why don't you go Cambia in the room Yes It's the last game This Bellissimo Bellissimo Non Come Da la ruota Non capisco Come on Come on Vale I'm splattered Jaime Beware Yeah This time This time Kaleb wasn't Splat You And 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 con il cecchino così sembra io che va a confronto colpo a colpo con il cecchino ma poi perché cambiare la sala? ma la sala non l'abbiamo appena iniziata fa due partite ah due partite? è la due partite che provi quello non so se questa è come mi dà la ruota che è raro non lo so a ver il rulli dynamo cosa hanno di speciale? che hanno che altri non hanno? si trattano di più fai scroll allora l'arte lo si no allora fa vedere una cosa no ma la bianca li odio ma la bianca interesting game yes e ma non ho idea è strano i was getting warm up ok 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 we believe you odio i rulli odio i rulli io non mi ricordo ma non scrive così ancora non sei dentro Fanta tu anche sei come si dice quando qualcuno si dice una bombilla scherzo scherzo sei entrato Fanta meno male normalmente 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 chicos qui tenevamo la rueda dove tenevamo tutto scritto no? ma la rueda oggi non funziona oggi è trasparente oggi è trasparente come l'acqua quindi se puoi essere così? you see oggi il nostro rueda è invisibile guarda stanno facendo anche rumore credo però non va la ruota non va no yeah ma no hola Renata hola Renata è benvenida creo non va non va non rueda non rueda è esi nuova Renata buono nuova te conosciamo non rueda vale ma stai streamando su twitch mi sai si no? ti lo dici si perché mi ha arrebatato un mail si si la rueda escapata la ruota non c'è più ci hanno rubato la ruota oh Enmar come li è qui? io li è qui porto suerte ho tenuto suerte oggi Renata non è nada come come direi non lo se tu sabràs no esplicano tua storia dai dai ti esplicano non ti escusiamo come muo no sono aspettatrice ancora no capital va culo ti esplicano ti esplicano magnate ti esplicano se sei nuova Renata e ti piace, suscríbete e nada facciamo streams praticamente tutti i giorni e se activa la notificazione e se sapete che YouTube te da quando le da la gana un aviso o se non ti enviare un correo un correo a casa no, però abbiamo Discord e lì sì che solemo avvisare no, oggi non lo abbiamo fatto oggi non, però oggi ha avvisato ha avvisato, sì, il bot abbiamo un bot eficiente dove Pau che è? chicos, solo con vostra bot io so che sois guapissimi ella sì tengo bot di guapissima? io credo che tengo bot di, non lo so ostra non lo so di che capita, cara vale ho mettere un show quando non sto a dormire ma è la mattina di vostro no? di che paese siamo? bene, siamo un po' una mezcla sì lui è di Italia io sono alemane e viviamo in Spagna e abbiamo un loro del Congo sì il suo accento è divertito il mio? sì, ma fa poco ha parlato in Spagna pe pepe pepe so si sa hai visto? io ho gusto tu no pepe be, be be divertito però quanto se oh 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 non me lo creo tranquillo pao maniana otro dia otro dia o tra corsa come si dice non so in italiano altro altro giro altra corsa quindi ho pensato otra vuelta o tra corsa tampoco fanta man fanta man invencibile se tu eddie eddie hello eddie oh sorry no 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 yes why no ciao pao visitenos pronto otra vez buona nit che fa chamo random mis que molusca y uno ha salido quen ponemos ah es verdad ah pues igual podríamos esperar a que entra ah no ha entrado calepo te desponte a ti no meti meti casual eh vale chicos arreu vale gusto ha vuelto a tocar ah pero a gust le gusta a gust le gusta somos afortunados no se suele repetir tanto hi black hello welcome literalmente es el primer video que veo de ustedes que guay y que te parece renata eres bienvenida si 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 se tu no me gusta vale pao se cambia el nombre ah gustavo de chile ah vale no le gustava pobrecito chines do you not away black squid gaming black hi black have you ever played with us black are you black black the black you play with us no yes maybe como no te gusta gustavo pensava che te gustava ya gustavo no le gusta mirar no puedo abandonaros no puedo abandonaros tranquilo eso se te pasa en la primera live si si tu te preocupes que con el tiempo se te pasa poco a poco poco a poco puede ser como Caleb el bufu doc scusa ma mi si spengono i joy cons suscarci grande ah you never played with us black squid ok then welcome here no because we have a friend black it's a really strong friend a really good player who is called black and he never has written here in the chat so we were like wow maybe it's him wow so welcome if you have switch you can find the code in the description and if you like it and want to continue playing with us please turn on notifications but first you should subscribe 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 yeah that's it and every time you enter if you're not speaking in english just say it let me speak i speak look like a child but i can speak english just a little don't worry she's the teacher i'm not uh expert in english but barbero barbero kuma no no renata renata no kaleb por qué no habla por qué no tiene voz y primero porque es un jugador ay que divertido 10 minutos más y me voy es que me mola mucho este canal gracias pero solo 10 eh si que no sea más eh nosotros también echamos a nuestros nosotros creo que somos el único canal youtube que echamos a nuestros a nuestros espectadores hoy te vas a casa a dormir a dormir a dormir sabemos los horarios de muchos de ellos entonces a veces se pasan divertidos pero tú no te tienes que estar ya durmiendo green kid ya no kubas hay un imitator eres un imitador ah no espera qué está haciendo dice pues no otros miran para arriba y yo miro para abajo en el ayuno en el ayuno ok en el ahora viene no sé de vídeo de splatoon pero no más es que no es un vídeo es un stream no es un vídeo aquí hay personas que están dedicando propia vida o sea todo lo que tú estás lo que ves que escriben aquí está dedicando la propia vida por hacerte ver mira un espectáculo de splatoon vale tienes pero tu Renata tienes la suya no se no sabe ni cómo ha llegado hasta aquí ah pero bueno yo pensaba ah pero no creo que un amigo suyo viene en nuestro canal claro eso es lo que suele pasar es Caleb yo creo que si le dice su país igual o su zona su zona horaria al menos podemos entender yo creo que no ha dicho española Renata no? no yo creo que no me encanta el no más que has dicho por eso sé que no eres de España seguramente es precioso 2 3 boom que mischiam un luz que va mi nombre es Green Kid ok blac 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 coordination � Alla, si, acabavamo di passare 2 mesi solo No, 80, perdona Ah, vale 80, 80 dios Fattano 10 per che io erano Team Elite, chi sarebbe? Madre mia Uy, che miedo Madre santa Uy, che miedo Ah, l'altro tampoco sta male E poi quanto ne teniamo? Ne teniamo ya buenos, dei subscrittori Black, did you subscribe to our channel or not? Because I want a black green friend But you have to subscribe Non ho visto il palazzo, si, raffare Il cumple del mes, osea, il cumple mensil, se diria Il 18, allora, il 16, il canale cumple il mes, il 16 Però il 18 fu il dia che abbiamo iniziato con streaming Perché era allà, dopo la medianoche Quindi abbiamo iniziato Ah, era il 17, no? Si, era il 17, ma per la noccia dell'allà Che era passata la medianoche Il dia anterior abbiamo abierto il canale Si Correcto Aiuto, 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 attrass, attrass Nooo Stavo leggendo la chat È stato bellissimo Si chiedes? Stavo leggendo la chat Quien dice che salta? Stavo leggendo la chat Un connoe Un connoe Ma di qui si può salire? Io questa mappa ancora non l'ho capita Nooo, no, chicos Che ti passa? Che ti passa a Calabasso? Che ti passa? Renata si è venuto? Non risponde più Renata Ciao Come arrivo io qui? Come lo avrei fatto per arrivare a questo locale? Recondito di Youtube De canale tontoso in mia vita Ho visto un monton Ma come questo? No Nunca Che vuoi comere? Non lo sè Non lo sè Pasta? Creepypasta Creepypasta No? Pasta Su, adesso non c'è quello con la pasta A ver che passa con questo bazookarpo Perché a sta ora Guarda la pelota botta dentro, che guai Ma c'è il tío lo sta usando Sono molto più interattivo i nuovi mapi Interattivo no, sono più realista Guarda Che guai Sì Guarda la pelota E ci sono un sito di spraffoli Guarda la pelota 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 Guarda, Luca un montone, bastanti juegos quindi se la persona non pide di cambiare il gioco, si cambia questo è il problema anche se deve dire che ora punta che è quando più persone ci sono qui, solemo giocare Splatoon perché siamo giocatori di Splatoon e perché è quello che più si tiene al final è uno che più piace tra altri sta passando tutto aiuto vieni conmigo vieni conmigo teniamo anche più video sì, l'abbiamo borrato perché teniamo copyright e così quindi abbiamo borrato tutto il video e non abbiamo nessun problema però non lo sai se tu hai alcuna preferenza preguntano ora è in piazza ruido time con Jess che pone l'acqua e in breve oh e basta dove sei? hello welcome to everyone bienvenido chicos sei chico nuovo bienvenido sì, è stato veramente una bella partita allora Sark e Gus afuera Sark e Gus afuera sì, boom torre Sark e Gus che è lo che scrive Jaime Tyler hello 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 asmer video asmer i vestiti della storia rispetto a un uno nel senso quello del samurai e questo ok dice sì e quello era bellissimo bellissimo molto 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 vente conmigo vente conmigo madre mia che rebelde sois chicos tenemos un pubblico da rebeldes hey Tyler Tyler è back ho notato qui quando hai stato qui ma ti saluto anche se come stai? questa scena è bellissima guarda guarda cosa succede adesso ma tu stai bastante attraverso no? no è solo comparato o sea hai leito questo? questo è qui? no è il video mira 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 quella la c'è perfetta sì sì come quelle che siano nella storia è un video in cui si parla bajo e si fanno ruido cerca del micro si suele fare per relajarsi no sapere la existenza di questo Jaime se vuoi io ti faccio guardare te doi golpecini nel micro e questo io ti faccio questo si è relajato oi me comere palitos grissini grissini contigo non so quale sia la mia storia non mi ricordo mira uno dei miei favoriti è Call of Duty solo che non lo so non lo faccio per Switch anche per Xbox One non lo ho comprato mi piace la avventura mi piace i miei non ho un juego ora è Splatoon perché abbiamo esperato tanto la Switch che ora che ho la Switch ho disfruto di Splatoon al top Fornite ti dico non mi piace è un juego ripeto io dico per joven per joven no perché è molto demasiado tutto e al final tiene non lo so mi piace un altro gameplay di lo hai provato sì lo tengo lo tengo non ho fatto nessun live stream perché non prima perché hai empezato a entendere come si chiaro no ma poi perché non è il mio contenito cioè sicuro non non voglio essere bene e non mi piace essere un buon giudatore di Fornite quindi deixo le persone che sono capace di jugare non mi pagano per una cosa che non mi gusta sicuro se non mi convenza non mi convenza e buon descanso e la questo è quello che mi piace per relazare si e di avere un chiuso paura paura tu tambien te vas Renata o saludas a nostro amico Pau no, sta salutando creo a Pau espero espero que no nos deje aqui asi no nos dejes asi aqui asi aqui sai cosa stifare? no miro messaggio a tu sorella miro a tu sorella un messaggio perchè? così, ma si sapeva come sta sei in casa anche sono un paio di minuti adesso faccio la stessa anche io con qualcuno un altro giorno dai alle 11 boh è strano eh? è un po' strano no, 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 no ninguna molestia Renata se tiene preguntas e perchè tambien quiere descubrirlo a nosotros e e acclararte su cosa tambien su decisione che tiene che hacer entonces hasta che no no hai falta de rispetto a chi puoi preguntar lo que quiere sin problema si, si non somos psicologo e in toni sete dicono no non ti voglio analizzare non ti voglio desire quale doc mi piacerebbe essere un igoti anche a me è fanta 27 kills nuova room nuova room nuova room come 27 non è possibile sei sicuro che sei di questo mondo ma no ma Marco c'è il controllo nel cervello la nintendo le ha fatto è nata con l'incontro di piantare madonna incredibile 27 91 ah la scena della palla la scena della palla allora te va Renata pues adios un placer che ti hai passato por aquí e esperemo che ti vuoi passare che ti hai capturato la tenzione qui siamo se ti ha gustado por favor Renata subscrivete se non l'ha hecho e e ya sta aquí hai muchas persone che vienen e non juegan entonces può essere che te encuentras una persona divertida how can they won't be fun che simpatici si siamo simpatici ma questo non ha detto quasi mai nessuno allora fattela tu una partita ehi Jaime la tu gli vas siamo mira siamo io a Ocio vale lo che vendranno vendranno si tanto tienen che sperare despues di Sark Kuma espera e lo siguiente espererà anzi no esperiamo nosotras o vuoi facertelo tu il partito no poco me veas ora espera Kuma mi muller vuole so Kuma te ha hecho esperar saluda Jaime Rivas che se va Jaime te vas en serio si Jaime se va Rivas vale Rivas no vemos Jaime te saluda también Jaime va bene tranquilo tranquilo respira aondo relájate por favor ups sustito de la noche ahora juego yo con el pincel que no es mi arma si veramente son belle partite si state facendo si bo la la perspettiva non è che vedo tutte fino adesso ci stiamo divertendo perciò si son belle partite finchè uno si diverte son sempre belle partite adesso logicamente sono le undici arriveranno i nuovi amici inglesi e americani prepariamoci all'invasione è il kumasighe perché non ho splato? perché è Kaleb? pensavo che lo spintello pensavo anche che era tipo splatta tutto anche non ho splattato Kaleb io credo che è in nostra base però credo che la voglio lasciare mentre si ocupe la altra persona no? no, non va no, io lo devolverò questa broca come si chiama perché per me viene defectuosa mi piace si è bellissimo grazie Pao grazie di verità e ora vete a dormire perché la prossima vez che vedo che hablas qui ti voglio abbannare te lo dico quindi vete a dormire e descansa che mancana sarà un altro stream e ora che non conosce sape che poi la tarda può essere che mancana fare un piccolo stream quindi andiamo a cucar non ti preoccupi un abbraccio grande ma no descansa che partida è questa che partida è questa dai io scappo adesso non ho com'è io scappo come? non posso non ho com'è non ho com'è non ho com'è non ho com'è e la cara di Jess in questo momento ma o meno è questa Jess è come questa persona fa così perché? in serio? io voglio ora voglio in base sulla mi dà ugual allì ah mira, mira toda recta ah oh è la prima persona che splatta non ho com'è no ho com'è no ho com'è è la unica forma in cui si può giocare al resto al palante e senza frenare ah altra vez madre mia povera Jess dime Jaime dime Jaime Jaime no no inspettables claro Jaime a Jaime si che le gusta il modo aspectador d'nos d'nos Marco è vero no? te ne vai ma quanto è che sto streamando? non lo so due ore e sedici oh Marco Marco aspetta che ti faccio un saluto speciale Marco il tuo primo saluto lo ricordi? Marco buonanotte descansa ma guardate che non so te chieremo ti vogliamo tanto bene Marco e ci vediamo domani sei il migliore Marco ricordatelo è cattivo eh Marco eh dai buonanotte Dochino no mi devi dire buonanotte Dochino io lo chiamo Calamacchino io lo chiamo Calamacchino secondo me io già lo immagino so come Calamacchino purtroppo io quando mi scelgo gli amici virtuali sono tutti come me più o meno anche Caleb anche Caleb necessitiamo di uno ma chicos stavamo in mil persone ora non juegano la pregunta di Jaime era se una vese insegneremo vostra nostri caras se non le mira creo che mi madre a los 5.000 subescriptores me va a ver nella cara perché non ho hecho per la cara lì tampoco ella no non lo se non lo se te digo siamo sicuri a fare qualcosa di bello per 500 creo per 500 abbiamo una sorpresa per lo che sono nostri amici quindi credo che poco falta è vero hai visto come Jaime saluta mago non te non te infatti volevo dire fino a 11 e 12 dai 12 minuti di più bello si lo sappiamo non te ah ma è Fanta è Fanta no Jaime arriva mi la ves ok ho scritto avanti vai guarda qualcuno è handicap no 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 3 contro 3 ah vale chi guardo chi guardo chi guardo anzi guardo dall'alto è vero facciamo è vero grande come si faceva per avvicinare senza avvicinare dal tutto non si è vero así me gusta creo que así es como dice Kuma también que le gusta a ver a mi me encanta si lo apuntare a los 500 apuntaselo eh no vaya a ser que se te olvide Jaime ai Falta Fanta ma con la L al posto della N e quindi mi confondo ma si è il tuo nome ah Falta sai cosa significa in spagnolo in spagnolo Falta quando dici no Falta una persona è ci manca una persona nel senso che non c'è no in il futbol o sport così è un quando fai un errore no quando fai una cosa non sportiva che è questo? che significa una persona con un nome japonese che scrive mettete a mi partida non lo so l'ho burrato Change we understood what you said are you taking it away te vas jaime? ah no vale vale stava salutando, pensavo che sei voi che raro ma io non lo vedo l'amico giapponese che ha scritto l'ho eliminato il commento se non è andato già ora vi se non mi risponde ah si c'è l'amico giapponese, ma il nostro amico giapponese si no? uno dei si si chicos esto esta muy azul eh bueno no, ahora esta recuperando los amarillos que paso con limon? mira, ostras limon limon lo vemos un monton a limon lo vemos un monton de veces en la lista de amigos es uno de los pocos que desde el primer dia hasta el ultimo hace un monton de meses ha dejado un limon che non ha scritto el igo di en el nombre miro una vez mas y no mas c'è una persona che sta chiedendo qualcosa giusto io penso che se pienso che se come i'm going to join c'è la puzzle sulla luma si hey splatoon yes splatoon but we change the room i think ah no 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 ti ricordi la puzzle 20 no carayba ti ricordi la puzzle per caso la scrivió fanta antes esta? 2791 2791 2791 io credo che limon se ofendio quando dice che c'è chistes malos perché è che non poteva più perché è che non poteva più perché è che non poteva più è che non poteva più chi è il limone? ahi Jaime credo che tu ancora non stavate qui un giocatore che vino un amico latino non mi ricordo male non mi ricordo male mi ricordo molto bene si ha chiesto di chiedere il limone più sabroso del splatoon il limone più sabroso divertido che forte Mario e tu ti ricordi del limone? io stavate qui anche io stavate qui anche vorrei avere una timeline una cronologia di nostri amici qui così sapere no perché così saperemmo qui più o meno sì? dove? in youtube ah io credo che comunque niente? facciamo così? non lo so hey ragazzi hai entero? ti piace entero o non? è il di splatoon no? io stavo chiedendo solo per arrivare al gioco in un minuto che speriamo sia splatunero splatoon champion oh lo aspetti oppure fai una cosa veloce perché sta partendo adesso sto parlando sei che vivi Sì, speriamo. Mi ha messo il like. È nuovo? Chi è? Hai messo il like? Ha? Hai messo il like? Stiamo aspettando per te. Hai messo il like? Stiamo aspettando per te. Stiamo aspettando per qualcuno. E, ragazzi, è solo un momento che il collega si vuole unire. Gustavo. Vai, tanto deve aspettare, vai. Siamo in volta, dì, dì. Dì, dì, dì. Oh, c'è. Eh, espera. Che? Ehm, we're all almost eight, so we're gonna start. Perché c'è? Because you should have to wait nevertheless. Ok, Splatoon? Because here, usually, when we're more than eight, the last person to come in is the one who has to wait. and... Yeah. That's it. Sorry that you didn't enter this. And the next. Next. Luckily, they're really short, so... 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 No. No. It's not before. Ah, but it's not Spetter, right? No. 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 Perché dite che è entrato? Mm... Poi, sto... E sto, sto... Sto giocando io comunque Fanta adesso. Quindi... Oh, non solo Gazzi accendo la Switch sai. bene 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 mettimi e non ci serve proprio niente così mi spiace dice che sarà qua ma non sarà nel stream quindi non potrà vedere le base niente ok splatoon i read what you said usually we do two matches and then we change the password because they tend to be quite crowded so at least if you can turn on the stream every time we change if you want to play that's necessary ok 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 Grazie.